Servizio commerciale Fiat Pisa, album numero 83 di Giusti Walter Foto, audio, video, musica, mixer di Walter Giusti Il padre del dottor Enrico, ingegnere Ottina Il dottor Enrico Ottina, titolare dell'agenda Fiat di Pisa Per Natale il pacchi dono ai dipendenti Signore e signori, con queste belle immagini di repertorio Walter Giusti vi auguro a tutti una buona visione A presto Grazie a tutti 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 Grazie a tutti